Quando le acquisizioni, quando questi investimenti in terreni fatti da degli investitori stranieri sono delle acquisizioni che violano i diritti umani, che non sono basati su un consenso informato e libero da parte dei land users e quando non osservano quello che comporta l'impatto sociale, economico ed ambientale di questo investimento e quando i contratti non sono basati su una trasparenza e su una pianificazione democratica tale fenomeno prende l'accezione negativa di land grabbing. Quella che è la situazione attuale di questi investimenti, almeno fino a quando hanno fatto la review di questo articolo quindi fino a qualche mese fa, potevamo dire che questi investimenti coinvolgevano un'area pari a 50 milioni di ettari che corrisponde a una volta e mezzo la superficie della nostra penisola, dell'Italia, isole comprese. Gli attori di questo fenomeno sono 41 stati come investitori, quindi in gergo grabbatori e 62 stati che subiscono questo fenomeno, quindi che sono grabbati. È un fenomeno globale che coinvolge tutti i continenti eccetto l'Antartide dove i più coinvolti sono l'Africa e l'Asia che presentano rispettivamente il 47% e il 33% dell'area totale mondiale coinvolta nel fenomeno stesso. In questo trasparente abbiamo rappresentato per i 24 paesi maggiormente grabbati che corrispondono al 90% dell'area totale grabbata, quindi comunque il grabbing si concentra in più o meno 24 paesi e in questa slide voi potete vedere i tondi in verde che variano di dimensione a seconda dell'area grabbata nel paese dove sono localizzati e rappresentano appunto i paesi grabbati, mentre i triangoli rossi rappresentano i grabbatori e le linee rappresentano il network del grabbing stesso. Se andiamo a fare un'analisi più di dettaglio e quindi ci spostiamo a guardare paese per paese, quello che possiamo vedere per questi 24 paesi che per alcuni di essi, come vedete in questa figura, l'area del paese coinvolta in queste acquisizioni a volte è una frazione per nulla trascurabile rispetto all'area totale del paese stesso. Questo si verifica in Uruguay dove il 20% dell'area del paese viene grabbata, per le Filippine siamo sul 17% e il 7% è per la Sierra Leone. In alcuni altri stati, per esempio in Liberia, in Gabon, in Papa Nuova Guinea, in Sierra Leone, in Mozambico, se andiamo a fare un'analisi di dettaglio vediamo addirittura un altro fenomeno e cioè che se si fa il rapporto tra l'area coinvolta da questi investimenti sull'area attualmente, cioè coltivata poco prima degli investimenti, si vede che questa area coinvolta dagli investimenti è molto grande, a volte anche maggiore dell'area che veniva coltivata prima degli investimenti stessi. Questo sta a significare che questi investimenti non coinvolgono solo dei terreni che erano già coltivati, ma a volte coinvolgono anche terreni che non lo erano e che molto probabilmente erano terreni dove ecosistemi molto importanti, quali savanne o quali foreste, avevano luogo, avevano dimora. Questo dal punto di vista ambientale è un fatto veramente molto dannoso. Siamo andati poi a vedere quali sono le forzanti, i drivers di questo fenomeno che sta avendo un escalation molto grande dal 2008 fino adesso. I drivers principali sono l'incremento della popolazione, il cambiamento di dieta di alcuni paesi special modo, i paesi dell'estremo oriente, quale Cina ed India, che si stanno spostando verso una dieta fortemente ricca di carne e quindi fortemente avendo un grossissimo impatto a livello idrico e un altro driver molto importante è quello dei cambiamenti nella politica energetica specialmente degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Europea. Si è visto infatti che nel 2007 gli Stati Uniti hanno promulgato una legge che incentivava l'uso del bioetanolo mentre nel 2009 la Unione Europea ha promulgato la direttiva sull'uso delle risorse energetiche rinnovabili. Questi due aspetti, quindi l'incremento della popolazione e il cambiamento della dieta da una parte e il cambiamento nella politica energetica dall'altra, hanno prodotto al contempo un incremento della domanda di cibo e un incremento della domanda di biocarburante. Questo ha prodotto una grossissima pressione su tutto ciò che riguarda l'agricoltura. Ci siamo poi chiesti perché i grabbatori grabbano, quindi da una parte abbiamo i drivers ora vogliamo capire perché quegli stati, quei 61 stati dei quali vi ho parlato prima che sono i grabbatori perché sono motivati a fare questa attività, tra virgolette. In questo grafico abbiamo graficato i paesi grabbatori principali, diciamo non sono tutti 60 e la percentuale di terra che in questi paesi è adatta ad essere coltivata ma che è al contempo già sfruttata per l'agricoltura, quindi laddove già si coltiva. Come vedete molti di essi approcciano il 100% di utilizzo di terreno prono all'agricoltura, quindi utilizzano già tutto quello che possono utilizzare per l'agricoltura. Questo cosa significa? Che se aumenta la popolazione, se c'è un cambiamento di dieta e se c'è un incentivo al biocarburante, questi paesi ovviamente non possono soddisfare tutto questo perché non hanno terreno adatto all'agricoltura, altro terreno adatto all'agricoltura che possa essere coltivato. Quindi questo dal punto di vista del terreno. Se poi andiamo a vedere cosa succede dal punto di vista della risorsa idrica, guardate questo grafico. In questo grafico noi abbiamo al solito graficato i principali paesi grabbatori e l'utilizzo in percentuale della risorsa idrica di acqua dolce rinnovabile che si già utilizzano. Se voi guardate l'asse delle ordinate vedete che molti di loro superano ampiamente il 100% e lo superano anche di ordini di grandezza. Ciò significa che in alcuni paesi si è già oltremodo sfruttata la risorsa idrica di acqua dolce rinnovabile e che già si usa la non rinnovabile e che quindi c'è un fortissimo bisogno di risorsa idrica altrui. Perché ci interessa la risorsa idrica? Ci interessa la risorsa idrica e in modo particolare non ci vogliamo andare a capire anche come globalmente la risorsa idrica si ridistribuisce attraverso questo fenomeno di land e water grabbing. Per fare questo cosa abbiamo fatto noi? Non vi tedierò con le equazioni matematiche vi dico solamente che noi siamo andati prima di tutto ed è stata una cosa molto onerosa per noi abbiamo dovuto costruire come prima cosa un campione di dati sul quale fare i nostri calcoli cioè il nostro scopo era quello di andare a calcolare la risorsa idrica associata al land grabbing quindi da una parte c'era questo acquisto di terreno dall'altra noi dovevamo calcolare in base a quello che veniva coltivato in questo terreno quanto era come ciò si traduceva in termini idrici. Per far questo abbiamo dovuto costruire un campione di dati di queste acquisizioni la cosa è stata difficilissima perché il fenomeno del land grabbing per sua natura è un fenomeno che viene tenuto nascosto sia da chi grabba ma anche da chi è grabbato perché coinvolge dei governi e capite dalla definizione che vi ho dato capite perché non è così facile ottenere dei dati su questo fenomeno siamo ricorsi per crearci il nostro database alla letteratura scientifica innanzitutto ai rapporti delle agenzie delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative abbiamo quindi costruito il nostro inventario di paesi grabbati e di paesi grabbatori dove per ogni paese grabbato noi abbiamo trovato la sorgente dell'informazione il paese investitore, l'area dell'investimento, quindi l'area della terra grabbata e il tipo di coltivazione che il grabbatore prevedeva o che già aveva attuato nell'area grabbata abbiamo quindi costruito un database alla fine di 450 terreni per ciascuno dei quali abbiamo calcolato l'acqua associata alle coltivazioni che venivano effettuate in questi terreni. Perché ci interessa l'acqua? Come vi ho detto la popolazione sta aumentando, si sta cambiando la dieta si sta intensificando le politiche energetiche volte all'utilizzo di biocarburanti l'acqua è importante perché l'acqua è alla base di tutto noi siamo abituati a pensare ad un bene, ad un qualsiasi prodotto e quando ci pensiamo all'acqua contenuta nel prodotto pensiamo solo a quello che è il contenuto di acqua nel prodotto nel momento in cui noi lo utilizziamo qui io vi ho portato questo esempio se noi consideriamo una mela il contenuto d'acqua della mela è 0,12 litri quindi l'acqua che c'è in una mela da un etto, un etto e mezzo è 0,12 litri ma questo è erroneo considerare questo contenuto d'acqua quello che invece si deve considerare è l'acqua che è stata necessaria per avere il prodotto, il bene che noi utilizziamo questo concetto è chiamato acqua virtuale secondo questo concetto, questa metrica noi possiamo trasformare tutto e parlare di ogni cosa come di un contenuto d'acqua che non è il contenuto del bene che noi nel momento in cui non lo utilizziamo ma l'acqua che è stata necessaria a produrre quel bene come noi lo utilizziamo se vedete per una mela abbiamo che 0,12 è il contenuto d'acqua nel momento in cui noi lo utilizziamo 125 litri è l'acqua che è stata necessaria per produrre quella mela da qui voi capite perché il calcolare l'acqua associata al fenomeno dell'appropriazione di terra associata al land grabbing è fondamentale perché molti di questi terreni vengono coltivati quindi sono terreni nei quali si produce cibo quindi viene tolta dell'acqua alle persone autoctone per produrre cibo che poi sarà un cibo che verrà fruito da altri dai nostri calcoli è emerso che l'acqua associata a una volta e mezzo l'Italia di superficie di terre grabbate è circa 450 miliardi di metri cubi l'anno se volete fare un rapido calcolo potete vedere quanto è il volume del lago di Garda vedete quante volte quanti laghi di Garda vengono grabbati di questa acqua sempre secondo quel concetto di acqua virtuale che vi ho esposto prima questo concetto di acqua virtuale in maniera più approfondita suddivide l'acqua, quest'acqua necessaria a produrre il bene che noi utilizziamo in acqua verde ed acqua blu, la verde è l'acqua di precipitazione la blu è l'acqua invece di irrigazione perché a volte l'acqua piovana non basta per produrre la coltura della quale abbiamo bisogno quindi voi vedete in questo trasparente che 450 miliardi di metri cubi è l'acqua totale associata ad una volta e mezzo, un totale di acquisizioni pare una volta e mezzo l'Italia dove poi vedete anche la suddivisione in green water, blue water e poi abbiamo anche fatto degli scenari dove andavamo a vedere anche quanto era l'acqua impiegata la blue water massima è l'acqua impiegata per irrigare le colture in condizioni di massimo rendimento della coltura stessa mentre quella che vedete come blue average è l'acqua impiegata secondo le condizioni attuali dello stato secondo per esempio tipo in Tanzania dove solo il 5% delle terre sono attualmente irrigate questo blue average significa che noi anche per le terre grabbate abbiamo calcolato di quanta acqua avremmo usato se le avessimo irrigate seguendo le percentuali che ora ci sono nel paese è ovvio che, almeno io penso, che gli investitori investano per avere il massimo rendimento per cui c'è da pensare che questi terreni verranno irrigati in modo da avere una produzione che sia il massimo possibile almeno dal punto di vista idrico poi nel caso aggiungeranno anche gli eventuali fertilizzanti ecco, questo è il discorso globale quindi se poi vogliamo andare a vedere un discorso stato per stato un'analisi stato per stato più approfondita possiamo vedere che dal punto di vista idrico gli stati più grabbati sono l'Indonesia, le Filippine la Repubblica Democratica del Congo, il Sudan e la Tanzania se andate a vedere nel dettaglio vedete che mentre l'Indonesia è grabbata principalmente per acqua verde, cioè acqua piovana il Sudan e la Tanzania lo sono invece al contrario per l'acqua blu questo è un risultato diciamo abbastanza scontato se uno pensa al clima dell'Indonesia o piuttosto al clima del Sudan e della Tanzania il Sudan e la Tanzania presentano un clima più arido e quindi le colture è ovvio che necessitino di un'irrigazione maggiore rispetto alle colture dell'Indonesia se poi invece facciamo un'analisi ancora più approfondita ed andiamo a vedere l'acqua grabbata per unità di area nel paese grabbato vediamo che il principale, il paese dove si ha un grabbing per unità di area del paese maggiore è il Camerun seguito dalla Papa Nuova Guinea e dalla Tanzania ciò cosa sta a significare? sta a significare che nel momento in cui si fanno analisi di water grabbing non basta semplicemente andare a vedere quanto è l'estensione dell'area grabbata cioè quanto è il land grabbing e quindi dire, per esempio, se il paese maggiormente affetto da land grabbing è la Tanzania non è detto che la Tanzania sia anche quella più affetta da water grabbing questo perché il water grabbing dipende sì dall'estensione del land grabbing ma anche dal clima e dal tipo di cultura che si intende coltivare quindi è molto più complesso che andare a vedere solo il land grabbing il land grabbing è un inizio ma per andare a stimare il water grabbing bisogna fare un calcolo dell'effettiva acqua impiegata nel paese dove si grabba con le proprie condizioni meteorologiche e anche il tipo di coltura perché ci sono delle colture più esigenti e delle colture meno esigenti dal punto di vista idrico bisogna quindi andare a vedere cosa i grabbatori vogliono coltivare e dove un'ultima analisi riguardo a un fatto forse il più importante che è quello della malnutrizione. In questo grafico abbiamo messo in relazione i paesi grabbati con la percentuale di malnutrizione che vi è su di essi come vedete molti dei paesi grabbati presentano delle altissime percentuali di malnutrizione se noi andiamo a tracciare che è la riga rossa che vedete quello che è il consumo di acqua pro capite annuo per una dieta bilanciata e vi ripeto l'acqua viene considerata come una metrica quindi che cosa si fa? Cosa è stato fatto? È stata considerata una dieta bilanciata una dieta bilanciata è un certo numero di calorie, calorie date da calorie di tipo animale calorie di tipo vegetale, queste calorie sono state trasformate in acqua grazie al concetto di acqua virtuale che vi ho fatto vedere prima da ciò è emerso che una dieta bilanciata, un essere umano avente una dieta bilanciata consuma in un anno 1500 metri cubi di acqua se noi tracciamo, ed è questa riga rossa i 1500 metri cubi di acqua vedete come in molti paesi affetti da malnutrizione l'acqua grabbata pro capite annua che sono queste barre verdi o blu, non so come si vedano vedete che l'acqua grabbata è superiore a quell'acqua necessaria per una dieta bilanciata questo sta a significare che in questi paesi se invece del grabbing questi terreni fossero coltivati per sfamare le persone che vivono in essi si potrebbe diminuire la malnutrizione dal punto di vista dei grabbatori per concludere, per dire due parole anche su di essi da qui si vede come i paesi grabbatori acquistino risorsa idrica vedete quanta ne acquistano e come è suddivisa in acqua blu e acqua verde vedete come gli Emirati Arabi che se vi ricordate avevano uno sfruttamento del terreno prono all'agricoltura ormai al 100% uno sfruttamento della risorsa idrica rinnovabile che era del 1000-2000% vedete che acquistano molta acqua grazie a questo fenomeno in conclusione, questo lavoro purtroppo ha delle incertezze ovviamente connesse alla natura dei dati incertezze con le quali non abbiamo potuto far niente perché come vi dicevo l'incertezza dei dati purtroppo è insita nella natura di questo fenomeno tuttavia certe conclusioni sono emerse e portano a riflettere su questo argomento e su purtroppo l'importanza che esso ha e speriamo che in qualche maniera questi studi servano ai decisori politici per regolamentare il fenomeno dell'acquisizione di terreni in terre straniere e di regolarizzarle in modo tale che sia assicurata una food security e una water security in tutti i paesi del mondo perché comunque la food security è un problema globale che va risolto globalmente ma certamente la direzione non è quella di prendere terreno risorse a coloro che si sanno meno difendere grazie grazie